Vorrei dire che, come ha detto il Presidente Rossi in questi giorni, il Presidente della Toscana, la grande partecipazione della comunità cinese in tutta Italia è stata esemplare. La Prato è un posto che ha una percentuale di cinesi assolutamente superiore, probabilmente ha lo stesso numero di cinesi di Roma e Milano, ma concentrati in un'area limitata. Il meccanismo di isolamento e di controllo domiciliare ha funzionato perfettamente. È una città che già in precedenza per altri casi di malattie tra i cinesi aveva applicato questo protocollo e questo è un protocollo che ha funzionato. Questo significa che il distanziamento sociale in questi casi funziona, ma nessun cinese per ora ha a Prato. il risultato positivo tra i pochissimi che hanno avuto sintomi respiratori.